Musica 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 Mazzia, quanto a Lidso? ecco che se è un 900 litri non è più un 1000 litri non è più un 100 litri non è più un 100 litri non è più un 100 litri ok questi adesso arrivano sotto sotto e poi si buttano a sinistra non è che vedono questa rechiusa si mettono già sulla sinistra no aspetta salame che si ferma così sull'autostrada vai un luogo non è più un 100 litri 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 ma a me si mettono la stessa va bene vabbè vediamo un pochettino di cosa possiamo fare devo fare altre tre ragazzi ultimo piccolissimo schforzo ci completiamo anche questo evento in live insieme quindi buongiorno buongiorno Aia Ho paura Che a Milano Non ci possiamo andare Oppure Possiamo andare a Milano Vedete non c'è Allora facciamo così Facciamo da Milano E E poi ci facciamo Arriviamo a Milano Dai Andiamo un po' Oh mamma mia Facciamoci questi 140 km Ok Sì! Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E vediamo se c'è qualcosa qua. Genova. Grazie a tutti. Non c'è niente. Non c'è niente. Un'altra botta di... No. Allora... Un'altra... Ok... No... Un'altra... Un'altra... No... Un'altra... No... No... Un'altra... 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 Occhio Me lo sono vista in fronte Quella spazio E cavolo E allora che non la alzano prima Non è reattiva come è le altre Non è reattiva come è un po' 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 Non è reattiva come è inizia Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. e... a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti.